Benvenuti da FTA Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Io sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studi del sito ftaonline.com. Prima di proseguire con l'intervento odierno, vi segnalo che abbiamo messo online il servizio del titolo del mese per quel che riguarda il mese di luglio con una promozione speciale per l'estate. Se siete interessati a conoscere di più di questa iniziativa potete contattarci via mail all'indirizzo ufficio studi chiocciola ftaonline.com oppure scriverci su whatsapp al 375 642 2515. Oggi parliamo come avete visto dalla copertina di etf, prendiamo spunto da questa tabella che veniamo a rendere disponibile tutte le settimane a quelli che sono gli utenti del nostro canale patreon.com ftaonline. Questa in particolare è la tabella dove mettiamo i 100 etf con la migliore valutazione del rapporto rischio rendimento. Come vedete nelle prime posizioni ci sono quelli che fanno riferimento al mercato del cash quindi alla liquidità ma ci sono anche alcuni etf azionari abbastanza interessanti e in particolare andremo quindi a concentrare l'attenzione su questi. due fanno riferimento al mercato del cacao, uno è relativo al mercato giapponese, due sul Nasdaq 100 e uno sull'S&P 500. Iniziamo proprio dall'S&P 500 che è quello che ci dà la sensazione, il polso del mercato. Se volete andare a vedere questi strumenti in dettaglio, qui vedete c'è il codice 5ESGE, basta andare a digitare su google questa sigla e dovremmo avere il, su borso italiana, la scheda dello strumento, in questo caso vedete è un etf che ha come benchmark l'S&P 500 ESG ed è in euro. Per quello che riguarda questo strumento vediamo che ha un andamento ovviamente simile a quello dell'S&P 500 nel corso degli ultimi mesi c'è stata questa bella fase di rimbalzo che ha ritracciato il oltre 61,8% della discesa precedente questo di solito è un indizio positivo che lascia spazio ad una fase di proseguimento del rialzo c'è da notare però che i prezzi sono portati sul lato alto di questo canale che ho disegnato dai minimi dello scorso ottobre e in quell'area hanno disegnato questo potenziale doppio massimo quindi bisogna fare attenzione perché fino a che non saremo di sopra del lato alto del canale c'è sempre il rischio che questa fase di crescita che appunto è compresa all'interno di due linee parallele in realtà sia un flag correttivo quindi la classica figura di correzione quale potrebbe essere l'evoluzione futura oltre area 25,90 quindi oltre il lato alto del canale avremmo spazio per tornare a testare i massimi del gennaio 2022 se invece i prezzi dovessero faticare andare oltre la resistenza e poi dovessero scendere al di sotto di area 24,90 avremmo il rischio di un test della base del canale ovviamente se poi anche quella dovesse venire violata il quadro ribassista si farebbe decisamente più pesante andiamo adesso invece a vedere il cacao quindi passiamo al mercato delle materie prime come vedete il cacao è in questa fase di forte accelerazione rialzista che dura ormai da molti mesi c'è stata la rottura di un livello di resistenza orizzontale importante e anche in questo caso però se andiamo a tracciare il canale che contiene i prezzi dal minimo del 2017 siamo arrivati come vedete molto vicini al livello di resistenza se facciamo partire la parallela al febbraio 2020 ancora non è stata toccata se la facciamo partire dal massimo precedente invece quindi quello di maggio 2018 vedete come sia proprio questa la resistenza contro la quale si sta scontrando in questo momento l'ETF andiamo a guardare magari cosa sta facendo in questo momento il nostro ETF oggi ha avuto un calo moderato siamo a 74 e 75 anche in questo caso parliamo di euro perché è uno strumento in euro la candela di ieri è un classico elemento ribassista un elemento shooting star che disegnato a contatto appunto con la resistenza data dal lato alto del canale fa sorgere qualche dubbio sul fatto che il rialzo sia immediatamente in grado di proseguire senza andare prima incontro ad una fase di ripiegamento andiamo adesso invece a guardare questo altro ETF vi faccio vedere anche in questo caso la scheda relativa in questo caso abbiamo un ETF a leva 2 ancora una volta in euro denominato in euro quindi abbiamo ancora una volta una situazione di crescita che va avanti da alcuni mesi quindi andiamo a guardare il rapporto tra questi due strumenti quello leva 2 e quello invece diciamo naturale, tradizionale che avevamo visto prima come notate c'è una evidente similitudine di comportamento anche se nel passato più lontano ci sono stati alcuni differenti punti di svolta in particolare qui abbiamo sull'ETF a leva il massimo dell'aprile 2018 che è superiore rispetto a quello del febbraio del 2020 a differenza invece di quello che è accaduto nell'ETF che stavamo guardando prima quindi in questo caso possiamo individuare delle aree di resistenza che sono state superate come ad esempio questa trend line la fase laterale precedente si era sviluppata principalmente a ridosso di questa a risupporto di 4,50 euro la rottura della trend line ribassista ha sicuramente influito positivamente sull'andamento dell'ETF c'è però da considerare che manca ancora appunto il superamento dei massimi di febbraio del 2020 che tra 9,20 e 9,30 abbiamo anche una situazione di RSI a 14 periodi in questo caso 14 sedute è veramente molto elevato tra l'altro si è anche già sviluppata una situazione di divergenza perché come vedete l'RSI ha disegnato dei massimi che sono allineati sui stessi livelli in concomitanza invece di una fase di crescita dei prezzi quindi questa situazione molto spesso evolve con una fase correttiva quindi l'ETF in questione potrebbe subire uno storno prima di salire ulteriormente quindi anche in questo caso forse vale la pena di aspettare prima di entrare al rialzo passiamo adesso invece al mercato giapponese quindi indice Topix più ampio rispetto al Nikkei come il Nikkei siamo su dei massimi assoluti vediamo se passando a settimanale abbiamo una storia un pochino più prolungata no, si parte solo dal 2013 sul grafico giornaliero vediamo che c'è stato un rallentamento dell'ascesa e la fase crescente è partita dai minimi del 2020 c'è stata poi questa prolungata lateralità al superamento della parte alta della fascia abbiamo visto una bella accelerazione crescente se prendiamo come riferimento l'ampiezza della fascia laterale quindi da questo massimo a questo minimo e la proiettiamo dal punto di rottura quindi prendiamo l'ampiezza della fascia e la proiettiamo dal punto di rottura vedete siamo già arrivati molto vicini al target del 100% c'è quindi il rischio effettivamente anche in questo caso che il rialzo abbia ormai fatto vedere quello che poteva avere a disposizione anche qui abbiamo una situazione di divergenza ribassista perché vedete l'indicatore ha già iniziato a intraprendere un percorso al ribasso mentre il grafico dei prezzi è ancora al rialzo quindi ancora una volta una situazione di incertezza che potrebbe condizionare negativamente il breve termine andiamo infine a guardare l'etf più se vogliamo diffuso scambiato per quello che riguarda il nasdaq questo eqq anche questo è denominato in euro e vi faccio vedere anche in questo caso la scheda che prendiamo dal sito di borsa italiana sempre che collabori in questo momento mi sembra che non abbia voglia di collaborare il movimento di olgica è comunque come vedete negativo per l'1,5% siamo in area 3,37 quindi abbiamo visto ieri una chiusura a 3,42 oggi si sta realizzando invece una fase discendente se prendiamo come riferimento i massimi del novembre del 2021 andiamo a calcolare i ritracciamenti siamo arrivati oltre il 61,8% ma possiamo aggiungere il 78,6% che è un altro livello sicuramente degno di nota che come vedete sta facendo un po' faticare l'etf sul proseguimento della fase rialzista il ribasso di oggi sembra confermare il fatto che quest'area 3,40 rappresenta un punto di resistenza importante non c'è solo il ritracciamento del 78,6% ma anche questo massimo di aprile dello scorso anno non è arrivato l'etf sul lato alto del canale che si può ipotizzare dai minimi di dai minimi di fine del 2022 andiamo a tracciare la linea parallela come vedete i prezzi si sono portati anche al di sopra della parallela però non l'hanno mai abbandonata in modo definitivo vedete c'è sempre stato questa tendenza a operare del pullback verso la trendline la linea passa a 3,35 3,36 quindi terrei quello come riferimento per quello che riguarda le brevi termini una discesa di sotto di 3,35 farebbe aumentare il dubbio di una fase negativa vediamo dove passa la media mobbia esponenziale a 20 giorni che ritengo sia sempre utile da controllare come riferimento per quello che riguarda la tendenza di breve è anche quella intorno a 3,35 3,34 e 70 quindi direi che fino a che rimaniamo di sopra di area 3,35 si può sperare in una nuova fase rialzista ma se le quotazioni dovessero scendere sotto quei livelli anche nel caso del Nasdaq ci sarebbe il rischio di una fase negativa quindi riassumendo tutto il mercato azionario Giappone Stati Uniti sia tecnologia che S&P 500 sembrano in una situazione di difficoltà ma anche gli etf sulle materie prime il cacao che ha corso molto nel recente passato sembrano essere ancora in una situazione di potenziale debolezza quindi in questo momento in generale gli asset più rischiosi sembrerebbero essere da considerare con estrema cautela e attenzione molto altro lo trovate come considerazioni generali sul mercato nel servizio che vi ho anticipato prima il nostro titolo del mese qui avete riferimenti per chiedere maggiori informazioni se siete curiosi vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornalista